Già funzionante? Già funzionante Un attimo Adesso ci dare una mano Io lo faccio Io lo faccio Io lo faccio Il dritto, il dritto Ok Non ti preoccupare Come ti dicevo Adesso è Non ti preoccupare Adesso è Stai più vicino a me Con la testa Mi raccomando Concentrati sulla corsa Sì Aspettiamo che arriva Sì Corri 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 Adesso è un po' comodo Quindi è forte Ok Non puoi fare la mano Non puoi fare la mano Non puoi fare la mano Andiamo subito Guardate che bella Questa è la giro Che spettacolo ragazzo Mamma mia Ha 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 Beh la lividi Ne volare così E' un'altra cosa Madonna mia Ma dopo ti faccio Un po' di velocità Ma che cazzo Si ragazzi Senti come si sente Eh Lo senti Tranquillo Perché Non ci avrai mai una chiusura Un po' di velocità Ora Infatti Si 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 Ah, qui c'è un po' di volo basso Esatto, c'è un po' di volo Si, si, si Però la sensazione è, appunto, è di sicurezza C'è un po' di posto, guarda E' sempre più complicato Si c'è da Sanisi e sta di qua Si 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 Ecco Ecco Aspetta che mi apro, tutto ok? Si, si Grande Primo volo delta con Luca C'è un futuro, c'è C'è un futuro, ti è piaciuto, dai Si, si